Davide Mazzanti, volevi una partita con ritmo, sono usciti 5 set buoni. Hai visto un'Italia in crescita rispetto alla Final Six di Nanchino? Sì, cose diverse. Attenzione superiore anche in difesa, abbiamo fatto belle cose. Anche in attacco abbiamo trovato delle intese che stavamo cercando e sono venute bene per buona parte della partita. L'ultimo aspetto che mi è piaciuto è quando eravamo in difficoltà, quando siamo riusciti a spingere anche in controattacco. Ho mancato un po' di continuità, ma è tutto normale. Un percorso di crescita, hai visto le cose che ti aspettavi questa sera? Le ragazze su quegli aspetti che ho detto mi hanno comunque soddisfatto, nel senso che erano cose che cercavamo e che abbiamo allenato in questa settimana qui ad Alassio. Devo dire che sono stati momenti molto positivi e adesso con il tempo verrà anche la costanza.